Ciao a tutti! Ciao! Oggi facciamo questo video in italiano perché non ho voglia di parlare inglese e faremo assaggiare a lui gli snack italiani. Più che altro ho comprato dolci, non ho comprato niente di salato. Quindi gli faremo assaggiare un po' di cose, tipo maggiormente della Kinder, perché in Canada non hanno la Kinder, hanno solo gli ovetti Kinder ed è una cosa tristissima. Io sono ancora a gonfia con un pallone, io pensavo di essermi sgonfiata, però ho ancora la faccia tonda, questo è perché mi sono prate ditte del giudizio, quindi se mi vedete paffutella non è colpa del Natale, è colpa di ditte del giudizio. Ok, sono pronti? Sì! Ok, la prima cosa che gli farò assaggiare sono le galattine, perché sono anche anni che non le e il mangiocchio, è qui. E' un po' di tante il latte. E' un po' di tante. Un po' di latte. Qua' questo? Non mi ricordo, è molto molto caro. È condamnato, ovviamente. È buono, è buono, è buono. Non è buono, non è buono. è molto buono è vero? ok è buono pernigotti 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 questo è cioccoli è vero non ho finito la cianciotti o cosa che vuole calatina calatina questo è un peggio mi fa pensare l'interno di cianciotti l'interno di cianciotti è molto simile è molto simile poi ho comprato questa cosa con tutte le cose mini che facciamo prima così ed è molto bella mi farò assaggiare tutte le cose mini che c'è il kinder mini il buono mini il buono bianco il kinder cereali che è una cosa che per te più mi piace e i chocobons 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 ok oh my god oh my god ok you told me you already tasted kinder bueno right? yeah, bueno ha già mangiato il kinder bueno quindi li farò assaggiare il kinder bueno white you're gonna taste the white version oh ok ok I don't really like white chocolate usually non gli piacciono i Raffaello ok non gli piacciono i Raffaello per favore giudicatelo tantissimo perché i Raffaello sono la cosa più buona che esiste al mondo no 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 o oh ok è giocco questo è giocco questo è giocco, ma comunque lo troviamo in Italia e non in Germania ok, i'm going to make you taste this one è scosso e questo cioccolato ha molti tasti per esempio, i bought the mini thing so we're going to have it for a while for a while with me in the yogurt do you like it? yeah, i like it, it's very good well i'm not going to open this one, but you understood kind of this one's yogurt flavor? yes very good stuff adesso li farò li farò stangiare le pastille leone this is basically something i don't remember no she doesn't remember she's not prepared to finish her video ok, pastille leone queste sono al gusto di non so cosa non so se siano le originali o se siano al gusto di cosa è il gusto no usually you use this to digest is that cat food? no i love it's okay or you don't bite it? no they're digestive or when you're thirsty you're toasting they're good you like them? yeah now i'm gonna make you see the torroncino eh non gli piace quello duro quello classico non gli piace però gli farò assaggiare questi qua tipo che sono i siciliani torroncini arancia che sono un pochino più morbidi something something orange yes something something orange no i i i i è che gli farò provare sono questi, che anche questi non credo siano italiani Forse è tedesca anche questa roba qua però il leone io non li ho mai visti che trove c'è in Italia, onestamente sono andata tipo anche in altri paesi non ho mai trovato il cioccolatino leone non so se ti passi una cosa che vendono solo qua, o se sei illegale Lion, extra crispy! Extra, extra crispy! This is one of my favorite things, if you don't like it, I think we have to break up Oh really? We'll see about that! The pressure is on Mmm, well that's good Why are you saying this? Because if not, I'm gonna break up with you Clearly Ok No, but it's very good It's very crunchy You can take a big bite at the same time, which is something I really like That's so good, this is the best thing ever Ok, so what is your favorite one? My favorite one is probably like, I liked a lot of stuff, I like the lion bar, which is very good I also like the little pills that you make me taste, these things, I would like to eat those Yeah, they're very good, and aside from that, I also like the little eggs Ah ok Yeah Chocoban Chocoban And finally the... Galattine Galattine, something like, really, I never tasted anything like it before And you like it It's still good Good That's very important, you didn't like Kinder Cereali and I'm very disappointed, but it's okay Because that's my favorite thing ever, but alright, whatever She's very happy because she's gonna keep them all, that's what it means She has already tasted the biscuits and had already a bunch of things like the yellow line And they like the pan-stelle or the pan-stelle? Hmm, how do you know? And I like the pan-stelle They like the pan-stelle which is very important She's also a little bit of the embraces, and then she has also also the orange line And the passion of the orange line, which I love the red one And I really like that, but they really like that And the food, and she has also a pizza, and I like pizza? Mozzarela in carrozza? Mozzarela in carrozza? And you like the mozzarella? No. What? It's not bad, but it's just so fat. Non gli è piaciuta la mozzarella in carrozza, io sono debusa e adesso romperò con lui probabilmente. What does the new weight? Ah, for right. A lot of fish. A lot of fish all the time. I can't eat the tramezzini, I don't know about the existence of the tramezzini that I have to eat, but for the rest, if they are cooking with food and they like the food, because they're cooking food, it's crazy. You know, I understand what I said. I understand everything. Ok, so, let's go finish all this. Stop. Ok, ok. Well, we'll see you next time, bye! Ciao! 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 Grazie a tutti.